Sono qui anche per dire che abbiamo rispettato un impegno, un impegno che ci avevamo assunti l'assessore Lodi e Dio quando abbiamo incontrato i rappresentanti dei genitori presso il liceo Dante forse qualcuno non era sicuro, qualcuno aveva dei dubbi sul fatto che rispettassimo i tempi invece così è stato, per cui questo ricreatorio sta tornando di nuovo vivo con tutti i bambini presenti qua sia quelli della Tarabocchia che quelli della Manga, finalmente tutti gli amici per cui io vi faccio un in bocca al lupo sono molto felice che oggi facciamo questa festa qui insieme a voi e vi invito a dire per il vostro ricreatorio e vi invito a cura! bravo ciao bambini, buonasera a tutti, buonasera ai genitori, io aggiungerei ancora due parole di ringraziamento ovviamente l'impegno, io e l'assessore Brami ce lo siamo presi ed eravamo convinte di farcela e ce l'abbiamo fatta ma il merito va soprattutto a chi ha lavorato completamente, quindi ringrazio ovviamente gli uffici e l'impresa che è qui presente, l'impresa Cerdone che poi ha lavorato completamente in questo poco tempo ad uno dei nuovi controsoffitti, adesso finiremo i lavori sulla parte esterna, siamo soddisfatti perché l'entrata in una struttura più bella e più sicura, quindi insomma sono contenta di partecipare con voi a questa festa oggi in Marigia io invece ci tendevo a ringraziare tantissimo tutto lo staff del ricreatorio Brunner che in questo periodo è stato disponibilissimo, ha lavorato alla grande per permetterci di arrivare a questo punto e di entrare al ricreatorio io mi sono molto emozionata oggi quando siamo orientati, ho visto voi entrare la prima volta abbiamo un ricreatorio nuovo, bello, pulito, luminoso, quindi vi chiedo di avermi cura e di farlo sempre più bello ogni giorno allora oggi pomeriggio festeggeremo, abbiamo delle cose in programma c'è un laboratorio per voi che è piacere di dipingere, potrà farlo avremo una palestra, una partita di pallavola in palestra qui, bambini e genitori perché è piacere di partecipare, è un piccolo di fresco quindi in giardino abbiamo già iniziato a giocare con i miei vecchissimi scacchi giganti in nuovi modi, quindi buon sentimento a tutti e divertire